C'è chi si occupa di sensori, di attuatori, di sistemi di elaborazione, di particolari. In realtà l'automazione è una disciplina complessa e non può essere svolta da un singolo soggetto e quindi ben vengano queste contaminazioni tra settori diversi. Sicuramente l'esperienza, per quanto mi riguarda, spero anche per gli altri, pienamente positiva e che mi ha permesso comunque di interfacciarmi con altri addetti del settore, ma che sviluppano ovviamente argomenti di ricerca differenti dai miei, magari anche più portati verso il settore industriale. È venuto fuori il discorso della possibilità di integrare tutte le nostre competenze, cercando di uscire un po' da quella che è la logica semplicemente cliente-fornitore. Secondo me questo è un po' il salto che bisognerebbe fare per cercare di sfruttare al meglio tutte le competenze di ciascuno di noi. Nel mio specifico caso di ricercatrice nell'ambito dei sistemi embedded di visione ho notato che comunque, nonostante l'eterogenità del gruppo, i sistemi, quello di cui mi occupo, la ricerca di cui mi occupo può trovare, diciamo così, impiego per i controlli in campi anche a me sconosciuti.